ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ad un video speciale ebbene sì questa puntata della reaction ai vostri video è un po speciale c'è un solo video un solo video perché me lo ha mandato tristano tristano è colui che gestisce il canale di urban gentry channel è un canale americano famosissimo io direi che il numero uno al mondo in fatto di orologi ora non stiamo a fare le statistiche primo secondo è tra i primissimi insomma uno dei più importanti uno dei pionieri dell'orologeria su youtube è anche uno che sa il fatto suo nel senso che a livello di qualità video di montaggio di regia cioè un professionista sa proprio fare le cose fatte bene molti di voi lo conosceranno no è un po un'icona di youtube del mondo e lui è di origini italiane o perlomeno ha studiato in italia per parte della sua infanzia di origini inglesi poi si è spostato in spagna adesso vive in america da anni new york philadelphia insomma è uno che ha girato il mondo ma il cuore in italia ce l'ha lasciato quindi segue i canali italiani di orologeria anche per per imparare non imparare per tenere allenato l'italiano il linguaggio no quindi a me ha mandato un video non so di cosa sia di cosa tratta il video ho visto solamente all'inizio mi sono permesso di guardare dove dice ciao davide in modo da capire che si tratta veramente di lui che non è un fosse un fake no non si sa mai nella vita e tra le altre cose ho anche rischiato di fare una gaffo perché io vi dico sempre di fare i video e inviarli tramite il portale wii transfer.com io poi ho nel client di post elettronica ho dei filtri che mi fanno spostare tutti quelli che arrivano da wii transfer in una cartella precisa così posso scaricarli da lì lui non l'ha utilizzato il portale e l'email è andata un pochino persa tra le varie altre email no e ci ho messo qualche giorno a capire che c'era un email con un video dentro che era lui quindi ho anche rischiato di non scaricarlo questo video adesso guardiamo prima di guardarlo però io vi mostro l'orologio del giorno che come al solito questo bellissimo breitling cronomat gmt con il suo bel bracciale 40 mm di diametro cassia calibro all'interno è un età 28 93 un calibro no di fornitura certificato cosca l'orologino che io direi che fa la sua bellissima figura vero non è vero io dire di sì ok dai bando alle ciance sono anche un po emozionato guardiamo il video di tristano cosa 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 ci vuole dire cosa ci vuole raccontare ciao davide sono tristano abito a philadelphia sono cresciuto a londra e poi trasferito a new york per vivere con mia moglie complimenti per il tuo canale mi piace tantissimo grazie in più mi aiuta a migliorare il mio italiano vediamo allora scusami se faccio degli errori ok sono anni che non vivo più in italia ma mio sogno di ritornare e vivere lì forse quando vado in pensione ho una collezione molto grande allora ho scelto alcuni per condividere con te spero che ti piace ok iniziamo con un panorai questo è il lumino marina 000 48 40 mm dei anni primi anni del 2000 automatico un movimento modificato va giù dentro è un po strano perché il valgiù 7750 che è un cronografo ma hanno tolto quello pezzo del movimento è ma mi piace perché è un po cicciotto ma funziona bene questo è il mio primo panorai prima non mi piaceva molto questo brand ma poi ho deciso di provarlo e adesso sono innamorato con panorai ho comprato all'inizio di questo anno per commemorare un viaggio di ritorno importante a firenze dove ho conosciuto mia moglie 20 anni fa adesso quando studiavo lì utilizzo molto è robusto molto facile per leggerlo e anche va benissimo con tutto i miei vestiti vestiti più eleganti e anche con quelli più casual ok ma sì cioè anche a me mi conforta il fatto che a te non piacevano i panorai e poi dopo un certo punto della tua vita ha incominciato ad apprezzarli questo mi conforta perché perché io sono nel periodo della mia vita in cui non mi piacciono non mi interessano non mi non mi stanno bene sul polso poi noi sappiamo che tu hai un polso veramente esile no molto contenuto quindi se hai deciso di indossare dei panorai avrei fatto una scelta oculata chiaramente poi ti ricordano firenze insomma il tempo che è passato in italia e ci sta ci sta tutto è a me purtroppo non non mi non mi sconfinferano tanto questi panorai però gli ho dato il top perché sono belli e orologie vedete ragazzi la professionalità delle immagini del montaggio il buon tristano ci sa fare è bravo bravo tristano bravo mettiamo questo lì poi abbiamo questo questo è un hamilton vintage hamilton 9 2 1 9 field watch classico classic field watch ma questo un po più speciale perché il quadrante avrex è molto molto raro degli anni 80 è piccolissimo ma come tutti questi tipo di hamilton di sì sì questo tempo ma ho sempre desiderato questo qui perché è un po più diverso e finalmente sono riuscito a trovarlo dopo anni di ricerca di attesa è un prodotto hamilton esclusivamente fatto per avrex che è un brand specializzato in giacche per pilote militari americani ma prima era per pilote adesso è diventato diciamo di moda una brand di moda per hip hop clothing quello tipo di stile lì non lo so perché ma mi piace questo piccolo logo tantissimo molto bello cassa tutto satinato carica manuale it e dentro non mi ricordo che non fa niente ok poi abbiamo questo questo è uno dei due safari l'ho disegnato io insieme con l'orea l'orea sono una micro brand da new york sì l'orea lo conosco l'ho sempre tenuti sott'occhio ora sono a new york però precedentemente negli anni scorsi loro erano in texas sono marito e moglie texani addirittura credo due insegnanti di scuola che hanno messo su questo micro brand l'orea che a me piace molto è già dai primi dei primi orologi che fecero poi hanno migliorato hanno migliorato sempre di più la grafica poi si sono spostati a new york si vede che il business funziona che va bene e il buon tristano ci collabora anche questo qua con questo quadrante rame salmone particolare si discosta anche un po dei soliti orologi che facevano che erano abbastanza bianchi neri belli comunque belli ho vissuto per quasi dieci no undici anni no dodici anni e ho conosciuto l'imprenditore di questa marca c'è un altro con un quadrante bianco ma ho scelto questo per condividere con te perché è un po più particolare non lo so non lo so il nome in italiano in inglese si dice salmon pink la mia idea salmone rosa salmone era quella di creare un orologio sportivo che puoi anche abbinare con vestiti più formale ecco le basate se c'è il polizia adesso philadelphia è sempre così anche a casa mia così il cinturino è si chiama moulange strap questo di wrist candy watch club resistente all'acqua hanno fatto questo cinturino specialmente per la lancio di questo orologio 36 mm è un edizione limitata ma con un movimento meglio allora volevo due parole su quel cinturino lì perché mi piace molto è molto particolare perché io ultimamente in alto come cosa faccio l'indosso come single pass cioè faccio passare solamente un lato e quello corto lo taglio e lo butto via quindi a questo punto io credo che per me per il mio gusto io debba andare ad acquistare solamente nato single pass in un certo modo così senza senza comprare quelli normali e poi tagliarli ogni volta li preferisco così inizio a preferirli così comunque è carino dopo ci do un'occhiata molto dentro ma il lancette sono quelli fatto con heated scaldati termicamente scaldati impara questo termine scrivitelo così i improve your italian termicamente scaldati lezione 1 a tristano fatta andiamo mi si dice ma non sono quelli dipinti sono non lo so perché ma non mi piace quando è falso mi devi fare bene o no la tua no ok poi abbiamo squale 1 5 2 1 con ita automatico dentro questo quello azzurro con la cassa lucidato ma guarda questo blu spettacolare stupendo il blu mi fa pensare del mare mediterraneo anche state a gaeta quando era un bambino ho messo su questo cinturino questo nuovo ho appena ho comprato questo di vedi ho fatto adesso hanno scritto in inglese strano ok vero pelle di coloreb di roma sono bravissimi questi qua questo orologio è molto importante per me perché è un po grande ma funziona bene perché questo ma come un po grande c'è il panerai che è un padellone così e poi ti lamenti dello squal che è grande è un diver è un diver come deve essere dai su ora non diciamo che lo squale grande 42 mm quanto è normale un diver poi c'è il panerai che così dici che è grande questo questo cassa è un capolavoro il fondatore Charles Van Buren era un genio perché il disegno è fatto così bene guarda questo piccolo pezzo qui è tutto piatto lì per mettere il dito qui è facile per girare anche lui era il primo persona o marca per usare questo lancetta orange perché è più più facile per vederlo sotto l'acqua e poi questo dell'acqua quando devi ricaricare fai così è più così facile no è un capolavoro bello questo qua ho visitato la fabbrica Chiasso tutti che producono i loro orologi sono italiani allora per me si è swiss made ma questo è il motivo per cui lo pronuncio alla maniera italiana e non alla maniera originale francese allora io dico squale non dico squal va bene ma anche se non è giusto è una cosa di rispetto e poi ho disegnato diversi orologi con loro ma questo qua era il orologio che ho iniziato questa passione per la brand dieci anni fa adesso incredibile ma dieci anni ok questo qua è la 417 di Hanhardt Redline limited edition sono famosi per la ok Hanhardt è un gran marchio che ha sempre fatto cronografi storicamente tedesco no storicamente ha sempre fatto questi cronografi con con questa ghiera zigrinata tondeggiante con il puntino rosso sopra quali era uno dei che poi però hanno ripresa anche altri altri brand ci sono anche dei palliot che hanno questa ghiera qua e in italia sono quasi semi sconosciuti non se ne parla mai non si conoscono probabilmente perché secondo me a catalogo hanno semplicemente solo un cronografo e io mi ricordo hanno solamente i cronografi e costicchiano non te li regalano però è un brand del quale bisognerebbe parlare un po di più prendere in considerazione maggiormente non credo nemmeno che abbiano una distribuzione italiana ma qua potrei dire anche una cavolata ma credo che non siano nemmeno distribuiti che bisogna comprarli online comunque belli gli anni. il cronografo di guerra soprattutto quelli hanno fatto per la militare nella seconda guerra mondiale questo è un po più nuovo ma il originale era negli anni 50 fatto anche per il pilote di Luftwaffe ma dopo la guerra e poi hanno diventato molto famosa perché Steve McQueen ha scelto uno di questi per lui era molto appassionato della motorbike racing poi abbiamo fatto questo orologio insieme per rilanciare questo famoso cronografo è carica manuale salita non mi non ricordo il numero 501 510 fatto molto bene molto molto preciso bellissimo poi c'è anche adesso c'è anche quelli flyback se vuoi pagare un po di più devo sottolineare questo come come fatto bene bravissimi questi guardi bello mi piace anche il pulsante reset rosso è sempre stata una caratteristica è bello mi piace mi piace tanto questo questo cronografo qua non mi ricordo nemmeno quanti millimetria di diametro cassa però è un classico dai con il bund ci sta anche quasi bene di solito il bund ingrandisce un pochino non l'orologio no si mette io tenderei a metterlo sugli orologi piccoli per farli sembrare un po più grandi e invece durante la seconda guerra mondiale si utilizzavano proprio sotto i patacconi da 50 mm per non per non avere l'orologio direttamente al polso insomma era una protezione bello 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 promosso orologico ti do anche il top tieni Tristano prenditi questo top però ti vorrei dare anche una cioffecca vorrei togliermi la soddisfazione di dare un cioffecca a Tristano devo da prima della fine devo darla eh anche anche indipendente come come squale come Laurier poi abbiamo questo eh il mio Pepsi GMT Most 2 40 mm classico automatico adesso Rolex è un po' come quello quella canzone di Califano noia 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 sono un po' stanco di questo brand ma lo porto quando viaggio perché mi porta fortuna anche è molto comodo per tenere contatto con la Ore di Londra con GMT Hand e anche mia famiglia in Italia e famiglia in Londra e poi anche per Elie Fahri ok finiamo con questo Amiga Seamost 35 mm chiaramente è un cioffecca alert finto però dovevo dovevo per forza è proprio la soddisfazione di darti un cioffecca non me ne volere Tristano è un bellissimo orologio con il quadrante se non sbaglio ora vederlo così pipe mi sembra eh però bellissimo bellissimo top ok così ho recuperato non me ne volere eh piccolo ma carino il 1905 6 e poi l'anno dopo ho cambiato tutto per amiche con you know the trilogy il nuovo Seamost è diventato un diver e poi si non è proprio Piper ho sbagliato è su due livelli ma non è non è a tortiera come si può dire però primo Speedmost Railmost tutti quelli lì tutto oro e vedi non c'è il hippocampus dentro c'è il movimento molto famoso il calibro 500 perché lo stesso è usato nel primo Seamost Diver anche quelli orologi iconici militare che hanno fatto dopo tutto fatto in house quando Omega era indipendente non era parte del gruppo Swatch e no è molto semplice elegante direi stile molto in inglese si dice aristocratico no qua quello è un parola anche italiano ma si elegante prestigioso più raffinato ho messo su questo fluco Nesa bellissimo suede ho avuto un sacco di Omega Seamost 12 Seamost ma questo è l'ultimo perché non lo so mi piace loro adesso basta così ma va bene dove metto questo aspetta e non lo so dammela a me qui mettiamolo lì vabbè però il cinturino mi piace ti ringrazio Davide tantissimo per tutto che fai se vieni a New York o Philadelphia fammi sapere certo love love grazie Tristano grazie finalmente un difetto l'ho trovato il cinturino di quell'Omega lì vintage non si può guardare c'ha quel colore burgundy quel marrone no ci starebbe bene un bel cinturino in cuoio semplice no o anche in pelle di coccodrillo anche se non è il massimo per me però lì ci starebbe bene bene la cioffega quindi si è beccata per il cinturino una giustificazione la devo trovare grazie per il video anche la qualità video era decente bravo Tristano vedo che ti deve da fare che stai imparando a utilizzare le varie macchine da ripresa bravo 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 se vengo in america sicuramente ti do un chiamo ci prendiamo una birretta tutti assieme davanti alla statua della libertà ragazzi mi sembra di aver detto tutto spero vi sia piaciuto il video e questa simpatica uscita dell'amico Tristano uno dei più famosi al mondo che ci ha mandato il video per farci vedere parte della sua collezione al polso gli avevo visto anche il navi timer che non l'ha tirato fuori ma l'ultimo nell'angolino l'ho fatto vedere il brightling navi timer che è parente di questo qua perché sono brightling due e due e si vogliono bene sono della stessa famiglia dai spero vi sia piaciuto il video vi ringrazio per essere arrivati fino qua un caro saluto a Tristano tante belle cose e io vi ricordo solamente gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao